Un saluto a tutti e bentornati su Zat Factor. Eccoci nelle gallerie delle locuste, dobbiamo arrivare a Nexus, la roccaforte delle locuste. Mamma mia ragazzi, che belle ambientazioni, spettacolari. Ah, le guardie Terone, sono quelle che adoro di più. Ma io mi sposterei, non fossi voi. Merda. Perché spari a me? Vile Marrano. Le chiate. Merda, ci sparano. Lui l'ho attaccata. No. Ma Super Blue. Ok ragazzi, io ti ho tentato a riprendere il cecchino. Puoi andare a riprendermi il mio cecchino. Ho ucciso uno, ne ho ucciso uno. Altra chiata. Andiamo a fermare la barca delle locuste. Io vado di Bolto. Fermata. Ma no. Adesso possiamo attraversare. Adesso possiamo attraversare. Ah, sì, devo far questo. E' andato a colpi di Bolto. Adesso devo riprendere i colpi a fondo da me. Eh, scusatemi. Barca a remi, ma davvero, ragazzi. Ma davvero. Ma non voglio prendere la barca. No. Sono pieni di munizioni. Guardate perché non ce la faccio a prendere. Io non voglio prendere la barca a remi. Eh, dai. Eh, vabbè, così andremo molto più lontano. Guarda, qui siamo. Prezzo di merda. Mi civerò dalle vostre carni. Bastardi. Stanno andando da qualche parte in particolare, sì. In questa cosa poco raccomandabile. Questa corrente poco amichevole. Come se ne sono andati? Hanno paura delle esalazioni di emulsi. Forse. O forse è qualcosa altro. Vieni gli occhi aperti. Ma che cazzo succede se respiriamo questa merda? È sicuro non ci fa bene. Ormai è proprio tardi. Merda. Niente di buono. Perfetto ragazzi, siamo un'esca per pesci giganti. E ora? Oh merda. Ma crepa! Posso andare di qua? Grazie. Preferisco. Oh, munizioni. Cazzo. Cazzo. Ma che cattività ragazzi. Fammi. Fammi. Oh, canna. Mi fa mettere al riparo. Dom di merda. Muori. Siamo incanalati qua dentro. Perfetto. Io sto qua. Non si sa mai cosa può succedere. Io il picciolone gigante non ce lo voglio avere davanti. Non si sa mai che. Questa sembra tanto una attrazione... Oh merda. È tanto un'attrazione da una parata. Poi nelle barchette. Però ci sono sempre le cascate. Appunto. Vabbè. Scendo un po'. Un po' di velocità. E... Senza mani. Quello invece deve essere un po' più brutto. Decisamente. Oddio. Ma voglio guardare. Eh già. Meno male. Siamo rimasti su. Non te l'ho mai detto che odio l'acqua. Bella. Grande. Granate. E polpo. Sto rumore non mi piace. Siamo in un bacino. Ah c'è qualcosa sott'acqua. Va bene. Non vedo niente. Non vedo niente. Sì. Però c'è di sicuro. Merda. Ma è attacco. Dove? Non copierò le battute. Ma... Lo so. Non se ne vuole andare. Se ho mangiato i nostri due... Se ho mangiato i nostri due... Se ho mangiato i nostri due... Smolla la barchetta. Buon ancora? Oh. Guarda. Venga. Detto di mollare la barchetta. Metti ancora sul bel tetancolino... Che te lo spalmo via. Merda. 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 Resistente però sta barchetta. Sta resistente. Perciò deve arrivare da lì. Ci sta venendo contro. Oh. Oh. Ma che cazzo vuole eliminarlo? Qualche storie come cavolo si può... Granate. Come il verde dall'interno. Dall'interno. E' un cazzo. Oh. Gesù. Perfutto. E' sparato negli occhi. Ah. Mamma mia dirà. Si. lì! Sì! E vai! Che culo figlio! Abbiamo le granate, abbiamo tre! Merda! Ah, che ricaricare! Ancora? Bona? Chegnate il cazzo! Joey stavolta trafigo super il culo la granata se non la smetto! Ed è entrato nel buco del culo, muori! Morto? Sì, e vai! Schifoso! Ragazzi, posso andare a pescare! Ok ragazzi, per questo video è tutto, nel prossimo ci addentreremo nel Nexus, no, ne troveremo l'autostrada per il Nexus. Spero che i video vi sia piaciuto, un saluto a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!